Il progetto Sovversivi ha come protagonisti i fascicoli dei sovversivi, cioè delle persone pericolose per la sicurezza dello Stato, come tali schedate, seguite per tutta la vita e fino alla morte, dal gabinetto della postura, quindi documentazione riservata che traccia questa attività di schedatura di queste persone ritenute potenzialmente pericolose appunto per motivi politici ma anche solo per una condotta di vita che si reputava appunto pericolosa e sovversiva. Il progetto che abbiamo lanciato di recente prevede che sia possibile a chiunque con una donazione anche di modica quantità contribuire al restauro e al ricondizionamento di questi fascicoli.